Musica Comincia il conto alla rovescia per il primo dei tre eventi organizzati dalla SM Musica con la partecipazione della provincia di Catanzaro e il patrocinio del comune di Catanzaro al Palagallo del quartiere Corvo. Venerdì 27 marzo infatti aprirà la serie Fiorella Mannoio con il suo nuovo tour dalla titola Fiorella Live. Dopo una prima parte del tour che non ha fatto altro che registrare sold out su sold out comincia proprio oggi da Venezia la seconda parte e si preannuncia un altro successo per ogni data. Musica Musica Musica